Frosinone. Le parole di Di Francesco prima della sfida con Napoli è bello ricominciare. Sensazioni uniche. Sono quelle sensazioni che ti fanno amare il lavoro. Non penso a me ma a noi. Del senso di appartenenza che dobbiamo avere per questo stemma e questi fan come affrontare il Napoli? Non posso dirlo ora. Forse ne parliamo dopo la gara. Non pensiamo solo a difenderci. Cercheremo di rispondere a un colpo per colpo. Sicuramente ci saranno momenti diversi durante il Razza. Abbiamo preparato la gara in tutti i momenti che possono uscire. Sono tutti disponibili. Non ho ancora dato la formazione. Qualcuno avrà capito che qualcuno sarà in grado di giocare di meno. Ho anche convocato Canotto perché è tornato a noi e se vogliamo è una novità.